Ippo, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Il provvedimento che stiamo per approvare, Presidente, è frutto di un lavoro molto lungo, con un dibattito approfondito che la Commissione Affari Sociali, non solo le forze politiche, i gruppi parlamentari hanno sviluppato in questi mesi, è un lavoro lungo, per molti aspetti anche complicato in alcune fasi, perché è l'abbrivio, nonostante la velocità con cui stiamo oggi portando a conclusione questa discussione in aula, è l'abbrivio per un grande cambiamento sia del sistema di welfare del nostro Paese, ma anche del sistema fiscale, come potremo apprezzare nel futuro, con la determinazione che abbiamo conosciuto in questi mesi, sia del relatore, che vorrei ringraziare l'On. Lepri, ma sia di tutti i componenti della Presidenza della Commissione Affari Sociali, ma anche con il determinato metodo che ha in qualche modo dato una linea nuova anche all'azione del Governo, che ha saputo rappresentare la Ministra Bonetti, portando nella discussione istituzionale del nostro Paese una grande novità di metodo e una grande novità di sistema che, io sono convinto, determinerà effetti molto positivi nei prossimi anni. L'assegno unico universale è un grande pezzo del più generale Family Act che il Governo ha approvato e che da qui a breve anche il Parlamento discuterà. Come è noto, mette a disposizione risorse finanziarie dal settimo mese fino ai 18 anni d'età, si allunga fino a 21 anni di età quando ci sono attività importanti in termini di formazione e di educazione. Ha una specifica formulazione anche in termini di indicazioni finanziarie per i disabili, per i figli che hanno problemi di disabilità. Al centro quindi dell'azione di questo provvedimento è finalmente la famiglia. Per chi ha avuto responsabilità istituzionali, responsabilità politiche a tutti i livelli sa bene che la famiglia è stato un formidabile argomento di citazione. Non sempre, come abbiamo potuto capire anche dai dati che abbiamo a disposizione, che ovviamente commenterò proprio in qualche minuto, finalmente la famiglia è al centro dell'azione di governo, non soltanto delle citazioni che fanno anche bene e fanno anche belle molte volte le discussioni della politica. Con un ribaltamento potente che secondo me darà importanti effetti anche di orientamento delle politiche generali nel nostro paese, perché il ribaltamento mette al centro il bambino, la bambina, sapendo che il luogo più importante per la formazione, come ci ricorda l'articolo 30 della Costituzione, l'articolo 30 della Costituzione come sappiamo investigare nella Costituzione c'è scritto quasi tutto di quello che ancora noi potenzialmente possiamo sviluppare e possiamo fare in termini di azioni politiche. l'articolo 30 della Costituzione richiama il dovere delle famiglie a mantenere, a istruire, a educare i figli e se voi leggete con attenzione questa delega che il governo avrà sono esattamente queste parole solenni della Costituzione che si tramuteranno poi in azioni importanti perché il mantenimento, l'istruzione, l'educazione sono alla base proprio della prospettiva fiscale e finanziaria dell'assegno unico. Il nostro è un Paese che ha vissuto una stagione demografica come ci hanno spiegato tanti studiosi e come ci spiega annualmente anche l'Istat, una stagione demografica assolutamente complicata con una interpretazione di questi dati che ha bisogno di un approfondimento vero, serio, raffinato perché il secondo dopoguerra è stato l'anno delle grandi speranze e ha determinato i picchi demografici più importanti nel nostro Paese. Oggi purtroppo l'Italia si presenta nel contesto europeo con i dati più bassi, 1,29 figli per donna rispetto a un dato che è già basso in Europa di 1,59 figli sapendo che come ci insegna la scienza della statistica e la demografia che se l'indice non è almeno al 2,1% il livello di sostituzione diventa così delicato, così grave da mettere a rischio potenzialmente il futuro del nostro Paese. Sappiamo altresì che l'Italia è un Paese che ha costruito nel corso degli anni anche tantissime agevolazioni di tipo fiscale, sono circa 500 quelle che vengono censite, di queste agevolazioni fiscali non sono ancora molte quelle che sarebbero state dedicate e quelle che dovrebbero essere dedicate alla famiglia. L'assegno unico universale produce esattamente questo effetto importante di riforma fiscale che ovviamente sarà una delle pagine importanti come ha annunciato più volte il Governo, come ha annunciato il Ministro Bonetti, come hanno annunciato anche altri Ministri sarà la base di una discussione che sicuramente il Parlamento dovrà fare con grande lena e con grande forza nei prossimi mesi. Dal 1945 ad oggi le nascite si sono dimezzate, l'Istat negli ultimi dati rappresenta e presenta cifre assolutamente clamorose, poco più di 400.000 nati, poco più di 600.000 invece, circa 700.000 invece i deceduti. In questo saldo naturale così negativo è evidente che dentro a questo saldo naturale così negativo ci sono ovviamente le prospettive difficili complicate del nostro Paese e dello sviluppo e della crescita del nostro Paese. Noi siamo convinti che questa delega dovrà, come è stato segnalato anche in alcune parti nella discussione che abbiamo avuto in Commissione, essendo una delega che bisogna offrire nella sua articolazione di principi fondamentali, il Governo sono convinto anche con la prospettiva dei risorsi finanziari che avremo probabilmente a disposizione in più nei prossimi anni, dovremo saper costruire ovviamente un impianto finanziario adeguato a questa semplificazione che l'assegno unico produce in termini fiscali che non deve essere soltanto una semplificazione ma deve essere sicuramente un'aggiunta di risorse per superare quel limite basso del 3,2% di spesa pubblica che ora è stata assegnalata per il nostro Paese che viene dedicata alle famiglie ancora una volta più bassa rispetto alla media europea. Abbiamo fatto un lavoro lungo, molte volte anche difficile, con un dibattito molto interessante anche in Commissione. Arriva oggi in Parlamento l'assegno unico, arriva accudito da un inquadramento di programmazione e di legislazione che il Family Act soltanto poteva dare che sicuramente consentirà di esaltare questo provvedimento in una più generale azione di riforma del nostro welfare e del nostro sistema fiscale che farà molto bene nel futuro del nostro Paese. Grazie. Grazie a lei, ha chiesto di intervenire l'Onorevole Bellucci, mia facoltà.